Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà, e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Tu sei mia, sei verità, tu sei la nostra, mia dignità, camminando insieme a Dè, vivremo in te per sempre. Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life, you are my life, alleluia. Devemoso, dominaremos, traendo tu alcanza a Dio. Testimonios de cair, dios de Dio. Testimonios de cair, dios de cair, dios de cair, dios de cair. Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.